Contro gli sprechi è opportuno lasciare l'automobile, portare sempre una bicicletta con sé, montarsela, così fai anche un po' di moto, prendi e te ne vai, così si consuma di meno, così si spreca di meno. Dal 2 al 4 maggio venite a Spoleto, quando non si spreca si vive meglio.